La scuola di politica Renata Fonte, organizzata da ACMOS e Benvenuti in Italia, decide di partire dall'arte. Il percorso di formazione di quest'anno sarà dedicato all'economia, per conoscere i meccanismi e avere strumenti per modificarla. La scuola di politica Benvenuti in Italia e ACMOS quest'anno affronterà una sfida molto precisa. C'è chi vuole farci credere che l'economia, che la finanza siano immodificabili, che le cose che accadono nella borsa piuttosto che sui mercati globali siano naturali, che sono così e non possono che essere così. È falsa questa presunzione, è pericolosa, sta producendo e ha prodotto disastri. La scuola di politica quest'anno si occuperà di smontare questo pregiudizio. L'economia e la finanza sono come sono, non funzionano, si possono spacchettare come dei giocattoli che si possono scomporre, se ne può capire il funzionamento e la politica poi ha il dovere di modificare questo funzionamento. Ecco qual è l'obiettivo della scuola di politica di quest'anno. La decisione di aprire la scuola di politica con il teatro ha basi solide, la rappresentazione teatrale e servatoio di cittadinanza, luogo capace di far riflettere per rendere il cambiamento possibile. Io credo sempre di più, e se no non avremmo fatto Orme insieme con Acmos, nel valore pedagogico in questo momento di una forte assunzione di responsabilità di chi fa arte, di chi fa cultura, ma di chiunque faccia il suo mestiere rispetto alla ricaduta che questo mestiere ha nella vita di tutti, nella comunità, nella collettività. Quanto più è limitato ciò che io conosco, tanto più sono schiavo, tanto più sono suddito, tanto meno scelgo. Quanto più ho strumenti per cogliere ciò che è dentro di me e ciò che è intorno a me, tanto più sono cittadino attivo, consapevole. L'arto in questo può dare, secondo me, una forza emotiva e di partecipazione grandissima. Questa sera Orme si esibirà per un breve spezzone dello spettacolo di Danilo Dolci, spettacolo sul quale abbiamo lavorato per tutto lo scorso anno sociale. Orme ha deciso così di supportare la scuola di Benvenuti d'Italia e di Acmos, proprio in questo modo, portando l'arte in primo piano. Questo anche per ricordare a tutte le persone che vengono scuole di politica e le persone che verranno questa sera, che i corsi inizieranno il 20 di ottobre e saranno ogni giovedì alla Fabbrica delle E, quindi Orme ricomincia sempre più forte e sempre più convinta.